ciao qui matteo bellini di chef del benessere ti do il benvenuto anche oggi in questa video pillola mattutina nella quale per la rubrica esploriamo ti voglio parlare di un biscotto che adoro i crumiri di casale devi sapere che questo biscotto ha una data di nascita e un inventore ben precisi la data è quella del 1878 e domenico rossi pasticcere in casale monferrato è l'ideatore di questi meravigliosi biscotti domenico all'epoca realizzò appunto un nuovo tipo di biscotto talmente particolare che meritò subito gli apprezzamenti prima degli abitanti della zona e poi di tutta la regione e questi apprezzamenti culminarono con un enorme successo domenico infatti poteva esporre i suoi biscotti all'esposizione universale di torino del 1884 quanto al nome di questo biscotto beh si dice che sia ispirato a un liquore tipico della zona e molto diffuso all'epoca il crumiro appunto si dice anche che la forma manubrio del biscotto fosse ispirato ai baffi di vittorio emanuele secondo sembra che la forma del crumiro sia stata appunto un tributo al re morto proprio nell'anno di ideazione di questo biscotto da parte del pasticcere domenico copiato da tutti e imitato in maniera più o meno buona questo biscotto ancora oggi viene preparato artigianalmente nelle pasticcerie di casale monferrato farina di grano tenero burro fresco zucchero uova sono gli ingredienti utilizzate per realizzare una morbidissima pasta frolla aromatizzata alla vaniglia una pasta frolla che riposa per un giorno prima di essere inserita nella tradizionale siringa con la quale viene lavorata al fine di ottenere la classica forma incurvata e ricca di zigrinature cotti in forno poi i crumiri vengono lasciati raffreddare e riposare prima di venire confezionati si possono servire a fine pasto accompagnati eventualmente da una tazzina di grappa da un caffè o da un bicchierino di vino liquoroso ma sono ottimi anche per la prima colazione insieme a latte caffè e cioccolata oppure abbinati a creme come ad esempio lo zabaione bene anche per oggi abbiamo detto tutto io come sempre ti ringrazio di avermi seguito ti mando un grosso abbraccio ti auguro buona cucina e ti do appuntamento alla prossima video pillola domani sempre alle 8 sempre con me ciao ciao